Test pre-ritiro per il rinnovato notaresco affidato quest'anno a Massimo Epifani. Ieri la squadra si è ritrovata allo stadio Vincenzo Savini, dove sta svolgendo alcune sedute di lavoro a cavallo di questi giorni di ferragosto. Un modo per riattivarsi e rimettersi in moto dopo la lunga sosta dovuta al lockdown. Il 20 agosto scatterà la preparazione atletica vera e propria con il ritiro di Isola del Gran Sasso, dove il gruppo suderà in vista dei primi impegni ufficiali, la Coppa il 20 di settembre e il campionato il 27. Tra i volti nuovi, grande attesa per il centravanti Mateus Dosantos, a lui il compito, a suon di gol, di raccogliere l'eredità lasciata da Marco Sansovini. Sì, sì, no, no, quello pure Bianciardi, Avanzano, quindi è positivo, almeno già inserisci subito nel gruppo, già conosci i compagni, già parte con via davanti, già. È una grande esperienza, comunque è un grande club, ce l'abbiamo tutto qua e speriamo di fare un gran campionato e lavoreremo per quello. Dobbiamo fare una grande stagione, dobbiamo lavorare a soldo e con la mentalità da vicende, quindi dobbiamo fare un gran campionato. Da un estremo all'altro, tra i pali, un'altra novità, quella di Clevis Sciba, ex portiere di Giulianova e Pineto, con cui si è costruito la fama di Pararigori. È un giorno importante perché abbiamo ripreso dopo lunghi mesi, la squadra abbiamo lavorato bene e continueremo su questo passo a lavorare. Conosco il mister che l'ho avuto a Pineto, i compagni, sì, anche qualcun altro giocandoci contro in questo girone. Fammi di Pararigori, sì, speriamo di parare tanti quest'anno. Speriamo di ripetere quello che hanno fatto i ragazzi l'anno scorso, però è sempre difficile, lavoreremo per raggiungere quell'obiettivo e continuiamo a lavorare. Grazie.